Musica Offrire formazione a 12 disoccupati e successivamente lavoro a 6 di loro non è certo cosa da poco nel 2018. Questa è l'iniziativa della Menci S.p.A., azienda di Castiglion Fiorentino, leader in Italia nella produzione di veicoli industriali. Raramente le aziende riescono a programmare nel medio-lungo periodo perché le esigenze del mercato impongono delle risposte immediate. Per una volta facendo l'accoppiata con quello che è l'ampliamento dello stabilimento che stiamo portando a termine in questi giorni abbiamo potuto programmare l'ingresso di personale specializzato con 9-12 mesi d'anticipo. Di conseguenza abbiamo portato avanti, prima insieme all'ISIS di Castiglion Fiorentino, un percorso di alternanza scuola lavoro che ha portato all'ingresso di 8 persone nella nostra azienda e insieme all'agenzia Ranstad e all'ente formativo Airone e in collaborazione al Comune di Castiglion Fiorentino abbiamo anche dato vita a questo corso rivolto a disoccupati della zona. I disoccupati hanno potuto conseguire dopo un corso di 160 ore un patentino di saldatore spendibile direttamente alla Menci o in altre aziende metalmeccaniche del territorio. E noi abbiamo messo a disposizione i nostri migliori tecnici, tecnici che tutti i giorni formano e certificano i saldatori delle aziende del nostro territorio. Una carta importante da giocarsi per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sei di loro saranno già assunti. Sicuramente al di là di tutto è un'esperienza positiva, comunque siamo un bel gruppo, anche molto variegato, ci hanno insegnato a saldare, saldare veramente in maniera seria e io spero con tutta sincerità di riuscire a entrare nell'azienda.